Il mio ruolo oggi qui è quello di formare i ragazzi per far capire la mia figura professionale, in particolare la pianificazione e l'organizzazione dell'evento matrimonio. Vorrei essere una guida per cercare di far capire il mio metodo di lavoro e anche la macchina organizzativa dell'evento matrimonio, in primis cercando di far capire loro l'empatia che bisogna comunque creare con le coppie, ma soprattutto la pianificazione dell'intera macchina organizzativa che va dalla consulenza dell'abito fino alla piccola etichetta della bomboniera. Loro ho cercato di dare una guida poi nell'allestimento di diversi tipi di tavolo, quindi dalla progettazione del tavolo degli sposi, quindi un tavolo romantico, all'allestimento invece del classico tavolo imperiale però in una versione green, quindi mettendo in campo anche delle materie prime per questa scuola, quale può essere il rosmarino, la salvia, l'alginepro, in una versione quindi green per riuscire a coinvolgere insomma i ragazzi e a darle delle linee guida. Allo stato attuale diciamo che siamo su un trambolino di lange, diciamo che stiamo ripartendo per quello che è la professione della sala e del wending. Abbiamo voluto fare questa iniziativa in quanto ci teniamo tantissimo a quella che è la formazione dei nostri ragazzi e abbiamo deciso di organizzarci per questo wending day che non è altro che tutto ciò che gira intorno a quella che è l'organizzazione di un evento. Abbiamo i nostri partner della FISAR, della MIRA che girano e aiutano noi a far crescere la professionalità di questi nostri ragazzi che hanno intrapreso questa attività, questa professione tra virgolette. Grazie a tutti.